Ciao a tutti, ciao amici di Zevio, due minuti per raccontarvi che cosa ci racconteremo insieme durante il nostro evento. Parleremo di sostenibilità, di un'economia sostenibile, cioè come si può far rilanciare l'economia di questo Paese senza fare le grandi opere, senza inquinare, senza distruggere il territorio. Come? Facendo un po' di debito e investendo nei settori che hanno dei fattori moltiplicativi maggiore di uno. Quali? Quali lo scopriremo insieme. Mentre il governo DPD arranca, si guarda l'ombelico, parla di poltrone, leggi elettorali, noi continuiamo a dare la nostra visione dello sviluppo economico e soprattutto del turismo. Oggi tra l'altro io ho fatto una conferenza stampa coordinando un po' il gruppo e ho raccontato cosa significa essere, cosa significa il turismo tra il Movimento 5 Stelle. Non vi anticipo nulla, discuteremo di tante cose che oggi sono a livello nazionale ma credo che utilizzando questo tipo di filosofia, questi atti, queste caratteristiche, possiamo fare tanto soprattutto a livello locale come le prossime amministrative. Ci vediamo il 26, ciao a tutti e spero di incontrare in tanti.